breve commento al vangelo per bambini di domenica 30 gennaio 2022 gesù felegname gesù vuoi scoprire i nostri cuori come un buon felegname e maestro di saggezza uscirai a estrarre dal tronco della nostra esistenza un'opera piacevole ai tuoi occhi riusciremo a capire che ci offre una scala di legno per raggiungere il paradiso nella tua città ti hanno ignorato non credevano al figlio del felegname a volte semplicità e umiltà non vengono piuttosto vogliono buttarti giù dalla scogliera tu tuttavia sei ancora determinato a scolpire la nostra anima nonostante tutti i rischi non stancarti mai mastro felegname di svolgere questo nobile compito vediamo se riesci a farci battere al tuo ritmo che ci adoperiamo nelle tue scelte e nel tuo modo di affrontare le sfide della vita falegname di dio lucida il legno del nostro essere con il pennello della tua misericordia e del tuo amore gesù figlio del falegname di nazareth fa che la nostra miopia non ci impedisca di contemplare il tuo disegno e supera i nostri brevi sguardi questo è un commento tradotto usando google translate pertanto uniscuoso per eventuali errori